Vediamo come intersecare due oggetti che disegno. Creo un rettangolo, un quadrato, lo estrudo e facciamo che questo qua, cliccando col tasto destro, lo rendo un gruppo. Cioè era gruppo tutto quello che ho, semplicemente una questione di selezione. Se clicco due volte, io entro nel mio gruppo e seleziono i vari componenti che compongono l'oggetto, che sono linee e poi i riempimenti qua. Posso svuotarlo, ok? Questo qua è l'interno del mio solido che di solito è più bluastro. Poi, duplichiamolo, CTRL-C, CTRL-V come in qualsiasi altro programma, e poniamo il caso che io interseco questi, ma avrei potuto intersecare qualsiasi altra cosa, magari avete disegnato, state disegnando un gadget, avete disegnato la mano e l'avete raggruppata e poi l'avete attaccata al braccio, no? E dopodiché bisogna intersecarlo, cioè bisogna far sì che tutti i miei componenti siano correttamente disegnati per la stampa 3D. La prima cosa che consiglio di fare è andare a gradi e esportare. Faccio file, esporto l'STL e lo esporto sulla mia scrivania. Poi lo apro con MeshMixer e lo analizzo, come ho fatto vedere in uno scorso video, e se ci sono degli errori li riparo. Se non riesco a riparare degli errori, andate sul vostro programma di origine su SketchUp, cliccate sul tasto destro su tutti gli oggetti che volete intersecare e fate esplodi. A questo punto tolgo la selezione e le cose si mischiano, ma non si mischiano come vorrei perché vedete che qua ancora non ci sono linee. C'è solo un'intersezione, tanto che se io tolgo una faccia vedo l'altra, vedete? Adesso per spiegarvi meglio cosa intendo fare, seleziono tutto, interseca facce con il modello o con la selezione. Con la selezione ho selezionato queste cose, vedete che si sono formate delle linee, che sono le linee nere, corrette, e l'oggetto si è intersecato correttamente, non del tutto correttamente perché all'interno ci sarà l'altra parte. Abbiamo fatto un po' un'intersezione e andiamo ad eliminare tutto quello che è in eccesso. Vedete? Anche le superfici interne, in modo che qua sia forato nel punto giusto. Poi ho probabilmente perso una linea, non ho più qua la faccia e si vede attraverso e questa è una cosa che non va bene. Quindi adesso ricreo quello che ho cancellato erroneamente e ricreo la faccia. Elimino le linee in eccesso, è molto semplice e intuitivo. Manca ancora questa perché ho eliminato le linee e l'oggetto si chiude totalmente. Poi posso prendere la matita e per chiudere questa faccia che è ancora aperta che mi creerebbe forse errore come MeshMixer ma sarebbe riparabile. Però cosa faccio? Io qua la chiudo direttamente. Traccio una linea su una linea e la faccia si chiude. Sicuramente questo modo di intersecare i file, adesso ve l'ho fatto vedere con delle forme banali ma i concetti poi vengono applicati anche su cose molto più complesse. Spero che questo video ti sia stato utile, metti un bel like e condividilo. Alla prossima! 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 Alla prossima!